Non so cosa sto facendo raga, non ho assolutamente idea di che cazzo sto facendo Ok, ciao Salve, salve Lo sto distruggendo? Non so se lo sto distruggendo oppure no Non ne sono certo Oh yes, l'ho fatto Buongiorno, buongiorno Cazzo di videocamera, mi ha ripreso di nuovo Figli di puttana Ok, dov'è Francesca? Dov'è Francesca, sul serio? Mappa? Francesca De Santis Ok, zoom mappa Camera view Ah, è qua? Ah, ma è sopra? Com'è sopra? Che cazzo è? Ok, a livello 6 What? Ok Sì, l'hai già fatto ciccia, l'ho già fatto Sei buona Allora, il fatto è che adesso devo andare assolutamente a distruggere le prove Che se non sbaglio sono qua Però Salvo 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 E entro nella sala prove Ok Pronto per entrare nella sala prove Buongiorno Buongiorno, buongiorno Buongiorno Buongiorno, dottore Dottore Salve Salve Non sto facendo niente di male, eh What the fuck? Sì Sì, sì Mi conosci Ciao Me ne vado Che cazzo è figa? Mi conoscono tutti Eh, vabbè Ciao No, non mi vedi? Non mi vedi? Sono sparito Che cosa? Quasi qua ti ti ammazzo a te Pezzo di merda Non so come fare E questo sta proprio qua Fanculo Io mi piglio la tua lattina, eh Mi raccoglio una scheda pure Culo, questo è lì proprio a guardare Ok, grande Ok, ok, ok Vieni Forse mi travesto, non lo so Non so se mi aiuta il fatto di travestirmi adesso Però Sicuramente è buono Perché adesso posso distruggere tutto Ciao Addio registrazioni Addio tutto quanto Me ne vado Serveglianza disattivata Oh yes baby Ok, adesso Il fatto è Che io Oh, quello mi vede però Che due coglioni Come stracazzo faccio ora Andarmene dalle balle Di qua? Oh sì, di qua c'è un passaggio A quanto pare No, non è vero Non è vero Non c'è un passaggio Però di lì Sembra Salire su al livello 6 Che non so manco dove cazzo sia Al livello 6 Buongiorno Buongiorno Salve Salve lei Mi sembra di conoscerla Che corre Mi sembrava Che 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 H Francesca What the fuck Ok Ok Oh, hey, ok Sarà perché è morto? No, por favor, mi sorprende Ciao, bella All right Ma come, non capisco Vestito come un giardiniere Ma perché è un giardiniere? Still got it Ok, va bene Va bene, coso? Storia della missione Ah, lume di candela? Forse è questa? Ciao, buongiorno Buongiorno, buongiorno Salve Camera a letto di Francesca Cos'è? Cos'è? Ok, ah, è lui Ok, sì Ok Ok Ok, va bene Andiamo Andiamo a uccidere così Dove sei Vargas? Tra l'arresti del maestro di golf No, cazzo Era lì, merda Vaffanculo Ok Come si fa? Penso che è qui in mezzo a tutti Dannazione Per topi No, no, no Non ho fatto niente Non ho fatto niente Non ho fatto niente, raga Ciao Me ne vado No, no Non mi avete visto, raga Non mi avete visto Ok Tutto a posto adesso? Non posso prendere le palle Da golf Mister Puoi andare a fare in culo Da qualche parte? Thanks Thanks, babe Madonna Quanto ti ammazza adesso? C'è ancora questo qua che fuma Maremma cane Ma com'è possibile? Vai a controllare che c'è il rubinetto che perde Dannazione Dannazione Dai, fai qualcosa Maledetto figlio di puttana Maledetto figlio di puttana Fai qualcosa Una moneta Una moneta Non lo so Te la lancio qua Guarda Te la lancio qua Ecco, bravo Vattene Ma porca troia la puttana No, 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 no Scherzavo Scherzavo Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto, raga Lol Carichiamo Che deficiente che sono Dov'è? Qua? E' questo l'autosalvataggio? Ok Sì, va bene Va bene E adesso che lo so posso anche Tipo avvelenare l'acqua prima? Penso che so che la beve Ma è acqua, non lo so Sembrava Sembra strano che beva acqua, però Per mantenersi in forma Obiettivo completato Tu cosa? Puoi guardare altrove? Bravo Ta 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 E metico Pa 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 Ok, fatto Ciao, bella Ok, dicevamo Prendo questa Seguo la storia della missione Sì, sì Francesca del Sanz Bene, perfetto Siediti Pellegniamo anche questo Già che ci siamo Va bene Sono pronto Dai, bevi quell'acqua Bevi quell'acqua Bastardo Bevila 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 Oh, sì L'hai bevuta Oh, quanto godo Fammi vedere Fammi vedere come muori Bene, bene Vai, vai Vai in bagno Vai in bagno Vai Bravo Bravo Ti seguo Per assicurarmi Che tu stia bene La seguo, signore Nessun problema, signore Signore, quei pantaloni Le fanno Le fanno un bel culo, signore No, amo No, amo Però è così Complimenti, signore Diamo la porta Diamo la porta Dicevo chiudiamo la porta Ok, non chiudiamo la porta Ciao What's up, baby What's up, baby Faranno un bel culo anche a me Questi pantaloni Vediamo Lo scopriremo subito Dopo averlo trascinato Nell'armadio Oh, sì Fanno un bel culo anche a me Complimenti per la scelta Sì, sì Sanno meglio a me, in effetti Un cellulare Ok Chiamiamola De Santis Che troia Va bene Puoi finirla Ok, grazie Aspetta la De Santis Nella sua camera Che posso fare? Disattiva la tv No, voglio attivare la tv Facciamo una bella sorpresa Col caminetto Guarda, ho preparato tutto bene Che ganso Oh, ma posso sedermi qua Come un super cattivo Sulla sedia da aspettare Che figato Qua nella penombra Come un super cattivo Ok, fammi salvare il gioco Comunque questa scena Voglio proprio godermela Niente, l'hanno messa in isolamento E poi hanno detto Vabbè, sti cazzi Probabilmente non era niente Il proiettile Che ha appena ammazzato Il tuo capo Brutta porca scienziata Vieni, vieni Sono qua pronto La sento che arriva Oh, potevo attivare la musica Oh, hey Buongiorno Lo so, lo so Spogliati Ok Mi stai mollando, puttana Wait What? The situation It's complicated Oh You see Ether The company I work for They didn't just send me here To assist Caruso Mmhmm Oh, hey He's becoming a liability Ok Interessante Ok, mi fa quasi brutto Doverti uccidere Francesca Anche perché sei sexy Francesca Ma hai bevuto il coso Ok Ma che stronzi No, dai Non rompere con me Vabbè Devi solo andare a cagare Non farla così Così dura Franci Ecco, vai Ecco, vai Ti seguo, Franci Aspetta che metto un po' di musica Affoghiamo una donna È così che fanno i veri gentlemen italiani La affoghiamo nel cesso Oh, mi sento sporco Mi sento davvero sporco Dopo aver fatto sta cosa Oh Non mi piace Beh Ora siete tutti e due Nello stesso punto Oh mio Dio Ora che ci penso Oh mio Dio Roberto si sveglierà Perché non l'ho ucciso E scoprirà che Francesca è morta Affogata accanto Oh mio Dio Ehi, però Copertura perfetta Non mi accuseranno di niente Oh, è perfetto È perfetto Vado via Scusate Sono solo il maestro di golf Ciao È inquietante Ma è perfetto Dammi la mazza Ok Da dove minchia devo passare? Da là? Ok Ci posso andare Senza che nessuno mi scopra Scusate Sono Ecco Non posso Non posso Non posso Sorry Scusate Ha sbagliato Ok Va bene Se vado via di qua Bene Ok Di qua Nessuno mi vede E scappo Ciao Potevo scappare Senza il coso Da maestro di golf Però Alla fine mi ha scoperto Solo una volta Cioè ho dovuto caricare Il gioco solo una volta Figata Sono un ganso È anche vero Che questa missione Me la ricordavo un po' Dal mio Dal primo gameplay Che avevo fatto Però non così bene Non così bene Come Lì cosa c'è? Posso vedere cosa c'è? Che cazzo c'è? Oh ehi Intrusione La fogna E qui dove si va? Che figata Qui non sapevo Che si potesse andare Da qualche parte Ok La esplorerò Prima o poi Ma ora bisogna andare via Salve Salve Arrivederci Mission accomplished Bitch Missione completa In pochissimo tempo Raga Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta In and out Come vi ho detto Dentro o fuori Vai Ok vediamo cosa Ho completato Gli obiettivi Tipo niente Vabbè no Vabbè no Non pochi Dai Ok 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 Minchia No Cos'è la bellezza Mozzafiato Ah Mozzafiato Perché l'ho affogata Nel bando Ok Va bene Valutazione missione Solo due stelle What Ho fatto solo La missione in solo mezz'ora Ma stai scherzando Ma vergognatevi Ok Molto Molto bene Ehm Missione successiva Allora Cos'è che ho sbloccato Il semiterato Della caffetteria Fico Poi Il garage della villa La scorta Nascosta E la madonna Cos'è Fucile d'assalto TAT 4 AR Auto Che fico Siringa Moderna Letale Ok Questo è molto Molto interessante Rifugio Della ICA Posizione iniziale Posizione iniziale Incognita nel giardino Della villa Bene Bene Sare la missione Come tenere la scorta La missione Solo l'inizio Bla 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 Ah si ok Vabbè No non voglio giocare La storia della missione Fatemi andare avanti Con la storia normale Grazie Johannesburg Una settimana dopo Ok Ok tu vieni ammazzato Da dietro Strozzato È proprio L'inquadratura Perfetta Ah no Ok Ok Ma cerchi di minacciarmi qui Non ce l'ha Ciao Ciao Bam bitch Ottima scena Ottima scena anche se poco contestualizzata Ecco il guaio di questa Della trama di questo gioco è che Sembra sempre un po' poco contestualizzata E non si capisce bene Cosa cazzo stia succedendo realmente Come ripianifico Ah ok continua la storia va bene Continua la storia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti